E salvo a tutti ragazzi e benvenuti a tutti quanti su questo nuovissimo video Ragazzi prima di cominciare con il video invito a lasciare subito un bel pollicione in su e iscrivetevi al canale ragazzi Perché manca davvero poco ai 300.000 iscritti quindi dai ragazzi che mi aspetto il massimo del supporto Dunque ragazzi in questo video ne vedrete delle belle e piccola cosa molto molto importante da dire prima del video Diciamo che mentre che giocavo ero un po' in una modalità leggermente fazzarella Nel senso che faravo cavolate perché mi stavo divertendo e lo potete sicuramente vedere non appena andrete a vedere questo video Quindi sono sicura che vi divertirete e che questo video vi piacerà anche perché nel divertimento ovviamente ti sta un bellissimo gameplay Perché come avete visto dal titolo e dalla miniatura in questo game ho fatto ben 20 bombe in solo Ovviamente ho l'andato nella nuova località che sarebbe l'industria di Tony Stark Che praticamente adesso è il mio land principale in pubblica in quanto lì ci vanno tantissime persone E posso veramente divertirmi facendo tante uccisioni e quindi trovare tante tante persone Vi ricordo inoltre ragazzi che se ancora non mi seguite trovate qui sotto in descrizione il link per il mio canale Twitch Dove streamo tutti i giorni dalle 10 del mattino fino alle 5 di pomeriggio Quindi non perdetevi nessuna mia live e seguitemi anche su Instagram qui sotto sempre in descrizione E se per caso acquistate qualsiasi cosa nell'item shop di Fortnite vi ricordo di utilizzare il codice creatore Coratomist E potete taggarmi in una vostra stories in modo tale che io appunto condividerò le vostre stories e vi risponderò anche in dire Ma ora non perdiamoci in chiacchiere ragazzi che ci siamo prolungati fin troppo Godetevi questo video Bella ragazzi Allora l'and perfetto da parte di Coratomist ragazzi E potremmo dire lo stesso Ma perché mi divivo di bloccare? Che c***o picconi I do not comment Busy Ok andiamo Vai Ehi c***o 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 ok vai hackeriamo il sistema I see you madafaka apri apri ce le p***e amo ni amo ni ok andiamo butto l'SMG non è necessaria mazza di bot Martino non ti arrabbiare con loro sono delle creature anche loro dai dovrebbe essere in fondo a destra come il cesso nei bar scusami sorry brother oh c'è una cosa di strano qua raga aha ti avevo sentito nel buscino hai piccolino che carino vediamo se riesco problema tecnico no il bot no è morto no fratomo scusa no por è bello volete assaggiare sono arrivata qui ok cominciamo in modo aggressivo scherzavo 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 mi piace no 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 scusami non puoi rimpiazzarmi c'è il thing siciliano no 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 scherzavo scherzavo mi puoi rimpiazzare scusami 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 abito in Africa hai ragione abito in Africa non posso fare questo ragionamento sono morto o forse no ma perché mi dovete sempre rompere i co... e... dai dai per favore allora 13 kill 9 vivi no non ce la faccio non ce la faccio raga non ce la faccio ci sono 8 vivi se ne muore uno posso ancora farcela ma è impossibile uh fermi i miei occhi di gatto vedono qualcosa miau vediamo se i miei occhi di gatto vedono qualcosa ok i miei occhi di gatto vedono benissimo devi venire qui va bene sei morto fai la preghiera del signore scusatemi questa era la messa del signore allora secondo i miei calcoli pluricellulari dovrei no raga siamo 6 devo ammazzarli tutti non ce la farò mai impossibile è impossibile no è impossibile se finisco con 19 bombe madonna di dio no 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 don't shoot you are dead double quanto mi dispiace ok 4 vivi posso farcela zitti zitti we can do this we can fucking do this ero sicura di ammazzarne uno e avevo previsto di ammazzarne anche un altro perché quando ho visto che quello la voleva pusharlo in modo cattivo ho detto ho detto ho l'ha messo bianco oppure semplicemente lo vuole pushare quindi perfect troppo loot strano eccolo scusa mi posso venire lì da te per favore no ti prego ti prego easy replace scherzavo ho paura ho paura ho paura ho paura ho paura ho paura ho capito che mi puoi rimpiazzare va bene nessun problema scusatemi ragazzi che io mi diverto troppo non lo faccio a posto mi diverto e basta ok andiamo scusa scherzavo va bene scusami sono ah no ti interessa va bene non disegno siamo di safe i bestemmio sono morta don't shoot me calmi concentrazione perché possiamo farcela l'importante è credere in Gesù Cristo mi dicevano sempre così da piccola allora devo trovare a meno uno se ne trovo uno sono a cavallo eccolo 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 found him target acquired amore mio sto arrivando ti ho chiamato amore mio e mi spari va bene ti ho fatto incazzare ok mi hai fatto incazzare non te l'ho mai detto ma hai dato a c***o quindi vieni qua mi sto veramente per alterare vai vai è confident è confident è confident ok chill chill last one last one d'onde stas questo ho pieno di m***a sei in casa veramente filtro no what the fuck non tipo di bloccare Martina negli alberi per favore che se te ne viva una cecchilata no questo è nel bush io che mi boxo e sto tranquilla qua no perché se mi cecchino bestemmio oh l'ho azzeccato che era lì l'avevo detto che era nel bush me lo sentivo me lo sentivo 20 20 perfetto l'ho azzeccato Grazie.